Approvata alla Commissione Cultura dell'Ars la risoluzione firmata dai deputati Gianluca Miccica e Giancarlo Cancelleri sulle iniziative urgenti finalizzate alla tutela dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Vincenzo Bellini, ente strumentale istituito dalla provincia regionale di Caltanissetta. La nota del commissario straordinario della provincia del 10 settembre 2013 stabiliva infatti che l'Istituto, in assenza di modifiche normative che possano garantire fondi da potersi destinare specificatamente alla copertura delle spese da doversi sostenere per il funzionamento, dovrà provvedere alle spese per reutenze e pulizia, ex trasferimento della provincia, spese per organi dell'Istituto e assunzione personale a tempo determinato e co-co-co sino a dicembre 2013 per un totale di 395 mila euro. Una richiesta che metterebbe l'Istituto in una situazione di precarietà visto che il bilancio sulla base dell'esclusiva ed effettiva contribuzione studentesca prevede entrate per circa 300 mila euro. Inoltre il protocollo d'intesa approvato con deliberazione di giunta provinciale nel 2007 stabiliva, tra l'altro, che la provincia si impegnava a mantenere l'attuale consistenza numerica sia del personale docente che del personale non docente per assicurare il pieno funzionamento dei corsi ordinamentali e di primo e secondo livello universitario. La Commissione Cultura, Formazione e Lavoro ha impegnato quindi il Governo regionale ad intervenire e a tutela dell'Istituto convocando il commissario straordinario della provincia invitandolo al rispetto del protocollo d'intesa e adottare urgentemente tutte le iniziative necessarie per garantire il regolare e corretto funzionamento dell'Istituto. Grazie a tutti.